Cosa succede a quel roundabout? Non ho capito. Stavo seguendo il gruppo e poi un minuto ci siamo fermati e siamo pensati che abbiamo venuto la wrong way. Hai solo seguito il moto, certo? Sì, credo che hai il giro di mountain. Quindi prima facciamo il top 3, dopo il top 3 è tu. Ok, grazie. Grazie. Hai solo seguito il moto, non vedi che... Non, non, credo che i ragazzi in fronte, credo che era Formula, solo seguì il moto. Non è il suo problema che il moto è venuto la wrong way. Era un gruppo abbastanza buon gruppo, avevamo Doverde, Eberle, Woods, un po' abbastanza buoni ragazzi. E poi la raccoglione fu fuori? Sì, siamo un minuto dopo. Ma la tua forma è buona per la Lombardia? Sì. Non è così buono come ho pensato. Pensavo che ero buono, ma ero abbastanza freddo, ma credo che era una raccoglione. I ragazzi da 5 km stavano stavano stagliati, e poi abbiamo preso i lapi, Pusca e Stevies, stavano stagliati in loro. I credo che tutti erano abbastanza freddo all'inizio, ma Primoz non si non mi piaceva molto. Sì, sì, sì. È stato incredibile nel finale, Primoz. È proprio qualcosa di bello. Sì, è stato... Il è stato il migliorno al mondo, e quando lo vedete in San Luca, è un po' di merito, quindi è bello vedere. Grazie a tutti. Grazie per la visione.